Rimaniamo in un contesto istituzionale con l'assessore regionale Cristina Grieco, assessore all'istruzione e alla formazione. Prego, benvenuta. Dunque, assessore, credo che si debba partire da quelli che sono stati, in sintesi, i risultati raggiunti da trio. Ne abbiamo parlato, lo facevo io inizialmente, ma in maniera assolutamente generica. Ecco, credo che sia opportuno entrare nel vivo, nel cuore. Utilizzi questo. Allora, intanto, buongiorno a tutti. Trio, diciamo che è il sistema di teleformazione, di formazione a distanza, di web learning, da oltre 15 anni. Oggi già questo evento rappresenta una novità, perché è un appuntamento ormai consolidato, quello annuale di divulgazione dei risultati, di analisi delle linee future, ma si è sempre svolto a Firenze. Quindi il fatto che trio cominci a spostarsi, quindi a raggiungere le varie province e i vari territori, anche simbolicamente vuol far capire come questo strumento, che è nato in maniera lungimirante, devo dire, e che è uno strumento usato, ma può diventare davvero un'eccellente risorsa per il mondo dell'istruzione, per il mondo della formazione, ma io direi anche per le politiche attive del lavoro, ecco, come ci si voglia avvicinare ancora di più ai territori e credo che ci siano degli spazi ancora inesplorati e delle vie che dovremo e potremo perseguire, perché è una piattaforma dalle potenzialità enormi, quindi dobbiamo sfruttarla a pieno. Che cosa è stato trio finora? Dicevo che trio ormai ha più di 15 anni e io ho qualche numero per renderci conto del lavoro che è stato fatto fino ad oggi. Intanto i numeri raggiunti. Dunque, gli iscritti dal 2002 al 2015, 437.000 utenti registrati alla piattaforma e 121.340 utenti attivi. Utenti attivi sono quelli che hanno svolto corsi negli ultimi 12 mesi. Di questi, circa 64.000, quindi la metà, sono cittadini toscani, il che vuol dire che il nostro sistema è usato anche fuori dai confini della nostra regione. Dal 2002 sono più di un milione i corsi frequentati e nel 1924 le risorse didattiche a catalogo, cioè corsi online, ebook, aule virtuali registrate e risorse audio. I servizi, ne faceva riferimento prima il video di introduzione, il laboratorio didattico per l'apprendimento di inglese e di informatica, 168 VLG, cioè gruppi di apprendimento web, per organizzazioni pubbliche e privata, erogazioni di webinar, cioè eventi live tematici, help desk, tutoraggio corsi, rilascio attestati di frequenza, orientamento al catalogo. Per fortuna i cittadini che usano Trio continuano a crescere e le aree in cui abbiamo lavorato come regione, i settori in cui Trio ha dato i risultati migliori, sono innanzitutto quello del settore dell'istruzione, perché dal giugno 2013 attraverso Trio si è svolto un programma di formazione nell'ambito della scuola, formazione su docenti, personale ATA, non docente, dirigenti scolastici e preposti, Trio Scuola Sicura, che è nato nel giugno 2013 in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e si è condiviso l'obiettivo ambizioso di usare la piattaforma di web learning per rispondere all'esigenza anche normativa di formazione nell'ambito della sicurezza. Per cui attraverso la creazione di gruppi di apprendimento a distanza in pratica si è svolta tutta la formazione del personale della scuola attraverso Trio. Quindi sono stati coinvolti, pensate, oltre 14.000 utenti con risultati assolutamente apprezzabili. Inoltre, e qui è una linea tutta da esplorare, magari lo diremo dopo, si è usata la piattaforma in via sperimentale per adesso per la formazione degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Quindi sempre la parte di formazione obbligatoria per gli studenti in ambito di sicurezza in alternanza scuola-lavoro. L'assessore Chiofa lo faceva riferimento alla legge 107, la legge sulla buona scuola. La legge sulla buona scuola prevede l'ampliamento del numero di ragazzi che obbligatoriamente dovranno svolgere le attività di alternanza scuola-lavoro. Quindi intanto l'ampliamento della platea, perché per tutte le scuole superiori le attività di alternanza saranno obbligatorie, ma anche l'accrescimento del numero di ore obbligatorie in alternanza. E le scuole dovranno provvedere autonomamente alla formazione, quindi a dare le competenze principali alla formazione per i moduli di base nella sicurezza. Quindi pensate anche qui che sviluppi ci possono essere nella nostra regione. E poi nel settore della formazione professionale ci sono state sinergie con il progetto Giovani Sì e anche con Garanzia Giovani, perché comunque gli interventi formativi sono stati e potranno essere ancora di più previsti anche attraverso la piattaforma Trio, quindi uno degli interventi che vengono proposti ai ragazzi che presi in carico dai centri per l'impiego è proprio la formazione e quindi Trio può essere utilizzato anche in questo canale. E poi i politrio presso gli istituti penitenziari. Noi abbiamo tre istituti penitenziari che utilizzano la piattaforma Trio, uno in provincia di Livorno, Porto Azzurro, Pisa, San Gimignano e proprio ieri si è svolto un convegno internazionale sui risultati dell'apprendimento a distanza attraverso Trio negli istituti promosso dall'Università degli Studi di Firenze e dal professor Paolo Federighi e addirittura al di fuori della nostra regione il carcere di Pescara ha sperimentato l'utilizzo di Trio per l'istruzione, per la formazione anche concorsi universitari nell'istituto di pena e i risultati sono stati assolutamente eccellenti, devo dire. Quindi anche qui sicuramente un bel successo. E poi Trio come politica attiva del lavoro rivolta ai cassa integrati in deroga e ancora all'apprendistato. Insomma, un progetto nato da una visione anche un po' coraggiosa della nostra regione che è stato usato e ha fornito a tanti cittadini un servizio. Questo fino ad oggi. Grazie, grazie a Cristina Grieco, assessore regionale all'istituzione alla formazione che ci ha offerto una panoramica direi esauriente di ciò che è accaduto con Trio proprio per uscire da quella vaghezza a cui alludevo. La salutiamo per il momento ma la ritroveremo in corso d'opera più avanti nel corso della nostra sessione plenaria. Prego. Ovviamente non ci vogliamo fermare a questo. Questo è quello che abbiamo fatto fino ad oggi ma l'importante è quello che abbiamo in mente per il futuro. Quindi insomma credo che gli interventi dopo poi ce lo spiegheranno bene. Grazie.